buongiorno buongiorno a tutti e benvenuti allora mi raccomando iscrivetevi a questo canale se non siete già iscritti iscrivetevi tutti seguitemi sui social qui elencati e soprattutto twitter e seguite violapresses punto com che vi dà info notizie aggiornamenti sulla fiorentina e sulla sua vita attenzione attenzione che c'è una sorpresa se avrete notato è cambiato è cambiato il paling sesto col quale mi circondo ho preso questa rastraliera qui con tutte le magliette ok che ho delle squadre ho messo qui le sciarpe ma perché ho fatto questo cambiamento perché come riservo quello spazio lì quell'armadio lì alle maglie delle pontatine e attenzione attenzione che c'è già una grande sorpresa e se mi seguite sul mio instagram oggi pomeriggio ci sarà la prima sorpresa ma ci sono due bottoni ok e sono proprio lo spazio giusto riservato alle due puntati alle due magliette con le due pontatine di calcio marcato che quest'estate ho preso e saranno appese lì ok una del milan e una della fiorentina con il nome girato diciamo in retro in retrovisione in retrovisione quindi qui le magliette le sciarpe e quello l'armadio delle pontatine che andremo ad aggiornare sessione dopo sessione in base alle pontatine di calcio mercato che prenderemo di modo che sarà tutto un circondario di magliette va bene con la magica poltrona leopardata con il trono alle spalle questa è qualità ragazzi questa si chiama qualità e a proposito di qualità attenzione attenzione perché in questa settimana e mezzo di pausa nazionale voi non vi dovete disperare non dovete essere scontenti o paurosi va bene perché ci penso io a tenervi compagnia sono io il vostro netflix perché nei prossimi giorni vi spiego un po il palinsesto domani intanto domani sera per abbonati intermedi domani sera ore 20 e 30 faccio uscire il primo video di catto cucina della stagione con il risotto che ho mostrato su instagram vi spiego passo passo come si fa mi vedrete cucinare video da spaccarsi dalle dalle risate dalla competenza domani sera ore 20 e 30 abbonati intermedi ma poi per tutta la settimana anche con video di calcio ed extra calcio avremo di che divertirci perché ci sarà cat ufologia ci sarà l'angolo del casciavit con il bruni ci sarà un angolo assieme a fabio bergomi che contatterò vediamo se se riesce parlando di inter prima del derby faremo un punto sulla nuova serie b con con il bepi questo pomeriggio qui andiamo a vedere come come giocherà la juventus tanti appuntamenti tante cose tanti video assieme attenzione attenzione quindi mi raccomando attivate il campanaccio e perché sono io il vostro il vostro netflix mi raccomando mi raccomando bene vediamo al video di oggi che si sostanzio in due in due questioni inerenti la fiorentina allora la prima sono le reazioni di commisso alle critiche al calcio mercato con annesso articolo e poi una riflessione su iachini il modulo il gioco allora ieri commisso in occasione della presentazione del nuovo centro sportivo ha detto che si critica troppo che il calcio mercato e l'operato diciamo della società sul calcio mercato hanno ricevuto secondo lui troppe critiche che bisognerebbe essere un po più pazienti insomma ha detto ha detto questo che si critica un po troppo io in realtà la penso diversamente cioè io penso che il calcio in italia sia una materia molto importante viene vissuto in una maniera viscerale io vi dico nei so io mi sono sempre occupato di social network prima parlavo di altre cose parlavo di cultura società e via dicendo ritrovandomi a parlare di calcio vedi proprio che il calcio in italia viene preso con una passionalità con una con una foga che veramente è totale l'izzante diciamo poi c'è da dire che abbiamo anche dei difetti in italia da questo punto di vista quindi fare calcio in italia si significa inserirsi in questo ginepraio in uno sport che è importantissimo che è totalizzante che è una vera e propria fede il calcio poi in italia muove anche tanti soldi è un qualcosa di importante a 360 gradi quindi quando fai calcio in italia devi anche sapere che quando le cose vanno bene c'hai c'hai lo stuolo mediatico che magari avevi l'anno scorso con i giornalisti che appena è arrivato questo subito trionfalismi e via dicendo quando le cose magari iniziano ad abbassarsi quando vedi che la situazione non è non è rosea non è semplice almeno dal punto di vista del mercato e delle scelte come sembrava c'è anche il risvolto della medaglia paradossalmente mi viene da dire che più che troppe critiche oggi ci sono stati troppi elogi ieri e elogi che poi come come dicevamo anche ieri quando sono eccessivi e quando innestano speranze che sono eccessive poi rischiano di ritorcerti contro capito ma con questo non sto dicendo che è colpa assolutamente della società è una situazione che si è creata quella magari di aspettative esagerate di una di una scarsa conoscenza di cosa vuol dire oggi fare calcio durante il play finanziario del del fare calcio diciamo al giorno d'oggi in cui c'è bisogno di dirigenze sul punto di dirigenze col pelo sullo stomaco che ti aiutino a farlo specie se se sei un novizio del calcio e poi va anche così va anche così in italia ma poi io penso onestamente se posso dirla mia ho letto sì qualche giornalista che si è lamentato qualcuno che che ha anche detto chiaramente che secondo lui la la società ha sbagliato ma ho sempre letto toni molto molto democratici toni molto concilianti toni molto educati e toni assolutamente leciti anche la conferenza stampa che abbiamo visto con il ds l'altro ieri ma mi è sembrato un clima assolutamente normale un clima anzi disteso un clima in cui il direttore sportivo ha potuto spiegare quello che aveva quello che aveva fatto non mi pare che siamo nella contestazione certo se poi vai a vedere i commenti dei tifosi le fanzine via dicendo ma quella è una dinamica è una dinamica normale non il calcio in italia non è teatro non è capitolirica non è è una roba popolare è una roba passionale ci sta anche quando parli di calcio possa succedere anche questo vi segnalo e vi metto in descrizione un bel articolo del nostro miglior regista e capitano in pectore della della fiorentina si rilterò che mi manca da pazzi mie mi ha fatto così piacere vederlo allo stadio durante fiorentina sandoria veramente mi manchi se dire mi manchi veramente tanto grandissimo sottovalutato giocatore ampiamente sottovalutato signor attaccante quando quando giocava quando stava bene quando era udine quando era anche anche i primi 4 5 mesi da noi e via dicendo in ogni caso gli hanno fatto un'intervista sulla fiorentina e lui ha un giudizio sul calcio mercato diverso dal mio perché lui dice che manca manca un attaccante una vera e propria punta da 20 gol dice che però difesa e centrocampo si sono si sono rafforzati qui sono io sono dell'opinione un po diversa nel senso che avrei rafforzato meglio il centrocampo e e sulle punte lavori iachini ecco il nostro schema quest'anno per me il mio vero viaggio di scoperta a livello schematico è un 3 5 iachini 3 5 e poi iachini buon lavoro che che devi devi implementarci l'attacco in ogni caso la parte interessante dell'intervista di iachini quando parla di chiesa e quando parla di milenkovic cioè su chiesa dice una cosa che tutto sommato penso anch'io cioè che in queste ultime ore si sta scaricando sul giocatore sostanzialmente tutta o quasi la responsabilità di come è andato l'affare dei suoi comportamenti e via dicendo quando in realtà sapevi da tempo qualcosa il giocatore pensava e anche però dice il vero errore è stato quello di non cederlo l'anno scorso ormai è diventato un mantra questo è diventato è diventato veramente un mantra e qui secondo me ha ragione poi anche su milenkovic dice che si rischia la stessa situazione e che e che non sarà facile rinnovare anche questa è una bella gatta da pelare e la cosa che mi preoccupa di milenkovic è il perché questi giocatori qui cioè perché questi problemi di rinnovo e con chiesa va bene ma lasciamo perdere ma anche con milenkovic cioè se io vedo che la come si può dire che c'è una reale tangibile forte progettualità di crescita magari un po ci penso quindi vediamo che cosa succederà speriamo possa rinnovare speriamo che sta che sta progettualità ci sia ma poi nel caso non c'è da prendersela coi giocatori non c'è da prendersela coi giocatori bisogna vedere che tipo di convincimento tu offri a sti giocatori prima di giudicarli se se anche milenkovic è fortissimo come difensore secondo me uno che può ambire a giocare in una squadra che fa l'europa che fa anche la champions volendo se questo lo si sa se questo lo sa lui se questo lo sa il procuratore se lo sanno delle squadre che lo cercano hai poco da colpevolizzarlo nel caso perché non se la sente di stare in una fiorentina che che magari quel livello non lo raggiunge e purtroppo è anche questo il discorso da fare e vale anche per i chiese e per tutti gli altri poi in ultima istanza vi dico di iachini una cosa una pepituzza che aggiungo dal video di ieri attenzione a non pressurizzarlo troppo iachini perché io come l'impressione che iachini stia un po pagando il fatto che si sia detto resti però ci devi far giocare bene e siccome io credo a quella cosa che disse gattuso cioè che chi nasce tondo non può morire quadrato quadrato a volte rischi di fare delle cappelle perché se lui vuole impressionarti cercando di fare un qualcosa che non fa parte delle sue corde tipo il fare giochi sarriani giochi briosi giochi guardioliani ma lui non ha quella filosofia rischi di fare un mappazzone allora è perché sento giornalisti dire deve cambiare schema iachini cambi il suo schema o lei ma suo schema di che questo 352 l'ha fatto montella e ha fatto anche bene secondo me ma non è lo schema di iachini questo questo è uno schema di montella che iachini ha proseguito non è il suo schema e siccome vedo tutta tutta la stampa adesso tutta la critica che ha messo nel mirino lo schema che ha messo nel mirino lo schema ok non vorrei che che iachini deviasse dal suo percorso o da sue credenze che magari sono più giuste di quelle che vengono riportate sui giornali perché c'ha sta fetta di critica o magari sente che in società o che o che qualcuno vuole che la fiorentina giochi bene ma se lui non ha nelle nelle sue corde nelle sue volontà e nella sua filosofia calcistica il fare un calcio di possesso un calcio di gioco un calcio di dominanza e non importa dovevi pensarci prima adesso che l'hai confermato lo confermi gli fai fare quello che lui sa fare catenaccio vabbè magari facciamo anche dei buoni risultati magari col catenaccio di iachini chi lo sa che non va in europa ma ha poco senso secondo me adesso stare qui a dire a iachini che deve diventare sarri iachini non è sarri iachini iachini e faccialo iachini e deve avere la massima fiducia perché iachini iachini e non è sarri quindi io spero anzi che iachini non si faccia deviare troppo perché rischi di fare peggio iachini deve ragionare con la sua testa con le sue volontà con le sue abitudini col suo modo di fare calcio perché sennò rischi di fare un mappazzone peggio che non è né che non vai a prendere nei pregi di iachini nei pregi di chi vorresti fosse iachini e quindi visto che è confermato iachini viviamo viviamo di iachinismo ma che sia iachinismo vero e non anacquato perché è iachini il nostro allenatore e non è sarri valutiamo iachini per come iachini e poi se avrà fatto male a fine anno e ci tocchiamo anche i maroni magari prima prendiamo delle conseguenze se avrà fatto bene va bene vuol dire che ha fatto le cose come si doveva e magari usando la sua testa e non quella di altri quindi se iachini è allenatore faccialo iachini e non e non cerchiamo scimmiotamenti di iuric di sarri e via dicendo spero che non si faccia condizionare da ste cose perché vedo già adesso sento iachini cambia modulo iachini sta provando ma no beppe vai avanti se non sei sicuro vai avanti per la tua strada e gioca come sai giocare poi risultati li vedremo questo io penso caro saluto ea dopo per video sulla juve